Grazie Grazie Il bagnatore in piazzola no 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 la piazzola non c'entra niente Io dico che noi non dobbiamo stare dietro al suboncello il fallo di riga Non è un indolo Aspettate all'immagine che quando loro escono due Non esiste E me la siete inventata lì per lì Non c'è sta cosa Si va su un picchietto è buona Quattro cinque secondi Quindi cosa facciamo Accettiamo quello che dico Chiedo o no Vi dico quello che mi hanno detto Si va bene Poi io ve lo sapete Qual è